La serie televisiva In versione sottotitolata con il titolo Mi Brilliant Friend Scopriamo subito dove vedere in replica la seconda puntata in tv e online.Un n successo straordinario per l'amica geniale La rete ammiraglia Rai si sta godendo lo straordinario successo di ascolti registrato dalla prima puntata dell'amica geniale andata in onda martedì 27 novembre La puntata di esordio, è stata vista da una media di oltre 7 milioni di telespettatori, conquistando più del 30% di share La prossima settimana è attesa la terza e penultima puntata ma già nell'appuntamento di stasera 4 dicembre non mancheranno colpi di scena Coloro che saranno impossibilitati a vederla in chiaro su Rai 1, non dovranno preoccuparsi Vi segnaliamo che potete rivedere la replica del secondo appuntamento della fiction in streaming online ma anche in televisione Ecco dove rivedere la replica della seconda puntata dell'amica geniale in streaming online e in tv Vi segnaliamo che la seconda puntata della serie televisiva Italo-Statunitense l'amica geniale sarà possibile rivederla in streaming online accedendo sul portale gratuito di Rai Klai È possibile scaricare l'applicazione gratuita di Rai Klai per PC, tablet e smartphone In questo modo avete la possibilità di riguardare in streaming anche tutte le puntate trasmesse in chiaro sulla rete Ammiraglia Rai Inoltre, il secondo appuntamento della fiction diretta da Saverio Costanzo sarà nuovamente trasmesso anche in televisione sul canale Freeride Premium La messa in onda, è in programma venerdì 7 dicembre dalle ore 21 e 25 sul canale 25 del Digitale Terrestre Aanno", pre말are. . Vertre Rai Klai .